Quest'anno abbiamo fatto questo percorso sul gioco d'azzardo che ha coinvolto 32 classi in otto province della regione Piemonte, quindi in tutto il territorio piemontese. Sono stati dei percorsi molto coinvolgenti che hanno fatto discutere i ragazzi su questo tema, direi sostanzialmente su due grandi tematiche. Siamo partiti in tutti i laboratori ragionando sul gioco e sulla differenza tra gioco e gioco d'azzardo, per poi ragionare nelle classi più piccoline, quindi prime e seconde medie, sul ruolo dei media. Abbiamo cercato di stimolare la loro attenzione con un meccanismo contrario a quello del marketing, cioè a fare contro marketing in un certo senso, cioè a far nascere dentro di loro una resistenza al messaggio che gli arriva quotidianamente. Questo è stato studiato e è un fenomeno che permette alle persone di crearsi delle strategie di difesa dai messaggi pubblicitari che normalmente ci investono e ci orientano nella nostra scelta. Abbiamo invece ragionato sulla mafia, sul ruolo della mafia nel gioco nuovo, nel gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo negli ultimi anni ha avuto una vera e propria crescita esponenziale, in particolare da 2000-2011 è un mercato che è cresciuto tantissimo. Questo, l'aumento delle possibilità di gioco legale, ha anche dato la possibilità di aumentare il gioco illegale. Quindi le mafie hanno aggredito il mercato del gioco d'azzardo. L'obiettivo ultimo chiaramente è quello di sensibilizzare i ragazzi per capire che anche il gioco d'azzardo può essere uno strumento dell'illegalità e soprattutto che non è attraverso il gioco d'azzardo che si può costruire un futuro diverso, un futuro migliore per la propria vita. È fondamentale già rendere i ragazzi consapevoli di quali sono i rischi, le patologie, ma anche di quali sono i meccanismi collegati alla legalità del gioco d'azzardo in modo che possano loro per primi evitare di entrare in certe dinamiche, ma possano anche portare quello che imparano e quello che apprendono all'interno delle loro famiglie, magari sensibilizzando questa volta i ragazzi, gli adulti che incontrano. Tutti questi laboratori hanno portato a realizzare dei manifesti pubblicitari, cioè sono stati i ragazzi stessi che hanno fatto loro delle pubblicità contro il gioco d'azzardo.